Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Iniziamo questo nuovo video course sul Machine Mark III, l'ultima incarnazione del controller più venduto della Native Instruments. Machine è un controller veloce ed intuitivo nel workflow, in grado di farci comporre beats e songs in maniera semplice e rapida. Il connubio software e integrazione hardware è più avanzato e completo rispetto ad uno strumento stand alone. Infatti Machine Mark III lavora con un software di serie di librerie residenti sul nostro Mac o PC che possiamo appunto vedere qui all'interno. Scopriremo poi come utilizzarle al meglio. Ma analizziamo subito le novità. La versione Mark III è più piccola rispetto alle precedenti. Innanzitutto gli schermi sono molto più grandi, come vediamo, sono stati ereditati dalla versione studio. I pads sono leggermente più grandi anche se la distanza rimane la stessa rispetto al vecchio Machine. Il touch strip può essere configurato in maniera particolare quindi per il pitch o per il mod o per la selezione e l'utilizzo con alcuni strumenti all'interno del sequencer. Sul retro troviamo una vera e propria scheda audio. Da sinistra vediamo l'uscita cuffie e relativo volume, l'uscita line e il volume, il mic gain e l'ingresso microfonico appunto. Seguono poi gli ingressi line, l'interfaccia midi, l'ingresso pedal assegnabile sempre via software, la porta usb e la porta per l'alimentatore. Il Mark III funziona anche senza alimentatore e viene soltanto limitata la luminosità dei monitor comunque alimentati dalla porta usb. Selezionando la finestra mixer possiamo vedere come la manopola apposta qui a sinistra grande ci permette di regolare i volumi e spostarci all'interno come se fosse un joystick delle varie sezioni del mixer e anche dei parametri del machine. In sostanza è una trasformazione del machine studio con scheda audio integrata, il tutto ridotto alle dimensioni di un machine Mark II, un upgrade enorme rispetto al passato. Ma vediamo subito come procedere all'installazione di questo software. Per prima cosa dovremo andare sul sito di Nativi Instruments, dopodiché spostiamoci qui dove c'è una faccina, cliccando sopra avremo la possibilità di creare il nostro account. In questo caso il mio è già stato fatto, quindi faccio il login. Dopo aver fatto questa operazione dovremo andare nella sezione prodotti e seriali, scendere in basso nella pagina fino a update drivers and other downloads, selezionare native access e scaricare l'ultima versione, in questo caso download for Mac. Una volta scaricato procediamo all'installazione, draghiamo in questo caso nella finestra di applicazioni il nostro native access ed una volta copiato lanciamolo. In questo momento entriamo nella sezione online dell'installazione di machine MK3. Quello che vedete sono i miei prodotti registrati, quindi probabilmente nella vostra pagina non compariranno. Andiamo nella sezione qui in alto aggiungi seriale ed inseriamo il seriale che troviamo all'interno della confezione di machine. Dopodiché clicchiamo su add. Nella sezione installer products troveremo le configurazioni adatte al machine. Nel caso avessimo acquistato anche il complete, quindi tutta la suite dei plugin, troveremo tutte le installazioni quindi relative anche al contact e ai plugin. Nel caso soltanto di machine troveremo machine application, dovremo fare install, machine factory library, machine gram selection ed alcune altre librerie che possiamo installare e plugin che vengono dati in bundle con il machine. Terminata questa operazione siamo pronti a lanciare appunto l'applicazione machine. Una volta lanciato machine ci ritroviamo all'interno dell'arranger. Vediamo nel dettaglio ma prima di tutto configuriamo il nostro controller. Per cui qui in alto accediamo dalla freccetta alle preferenze. Controlliamo che machine mk3 sia selezionato all'interno del controller e sotto file scendiamo su preferenze. La prima parte fa riferimento allo startup dell'applicazione, quindi cliccando su questa opzione avremo modo di caricare automaticamente l'ultima song utilizzata. L'altra opzione ci permette di registrare i nostri samples e file audio all'interno del progetto. Nella sezione metronomo che vedremo più approfonditamente in avanti possiamo abilitarlo, far sì che il volume del metronomo sia regolato e la possibilità di farlo suonare per una o per quattro misure. Sotto abbiamo la possibilità di controllare l'input in fase di recording, quindi mettiamo input record. In questo modo verrà quantizzato quello che noi suoneremo sopra il machine qualora stessimo facendo appunto una composizione con la batteria elettronica. Infine un feedback che viene inviato a Native Instruments, quindi ai server di Native Instruments relativi al nostro uso che permettono di migliorare l'interfaccia nei prossimi aggiornamenti. Nella sezione audio troviamo la possibilità di far uscire il machine direttamente nella nostra scheda audio oppure direttamente dalla scheda audio del machine. In questo caso sto usando il core audio di driver dell'OSX, la mia scheda audio, la Fireface UFX, oppure potrei utilizzare le uscite del machine MK3. Il tipo di sample rate, quindi posso salire fino a 192 kHz. Il buffer che fa riferimento appunto alla latenza come abbiamo già visto in altri tutorial. Ed infine il routing stesso della scheda audio e del relativo machine. Quindi questi sono gli ingressi del machine e le uscite. Questi sono gli ingressi assegnabili al nostro progetto. In questo caso sono selezionati da 1 a 8 ma posso scegliere altri ingressi e uscite della scheda audio che sto utilizzando in questo momento. Stesso discorso per gli out. Voglio che l'out appunto venga in main indirizzato a qualcuna di queste uscite oppure lasciarlo così di default. Nel caso stessimo utilizzando machine all'interno di un sequencer. Quindi ad esempio all'interno di Studio One non dovremo configurare questa sezione. La sezione MIDI fa riferimento ai controller che possono essere associati al machine. Quindi poter utilizzare un sync lock o utilizzarlo come master o slave in base al tipo di tastiere MIDI che noi colleghiamo al machine. La sezione default invece ospita la possibilità di scegliere il tipo di cartella su cui salvare i progetti. Stesso discorso per il preset dei plugin. Oppure per il metronomo o le sezioni. I pattern possiamo scegliere se farli partire dalla misura 1 o dalla 2 o dalla 3 eccetera eccetera. Library è la sezione a cui fa riferimento la libreria e quindi il search delle librerie di machine. In questo caso puntano su un hard disk SSD che sto utilizzando. Per quanto riguarda le librerie factory. Ovviamente è compatibile sia con le librerie fornite da Native Instruments sia con quelle fornite da terze parti come ad esempio Arturia o Rob Puben che funzionano in modalità NKS. La sezione plugin ci permette di escludere alcuni plugin e quindi non farli caricare al momento dello startup. Questo è utile per evitare che ci siano crash o incompatibilità con alcuni plugin di terze parti. Nella parte hardware troviamo invece il vero sistema di controllo della macchina. Quindi selezionato il controller MK3 possiamo scegliere la sensibilità da applicare sui pad, il tipo di velocity, la luminosità dei led e la luminosità del display. Il tipo di sensibilità applicabile al touch sensitive knob ossia l'auto write quindi la possibilità di sovrascrivere la programmazione direttamente ogni volta che si tocca e l'uscita audio che può essere mandata esclusivamente all'uscita cuffie. Infine troviamo la gestione dei colori. Questi sono i colori relativi alla scena quindi ovviamente rimarrà in automatico quando vengono selezionati lo vedremo all'interno delle tracce i colori o all'interno dei pads. Stesso discorso possiamo mantenere per esempio white per i pad che non vengono utilizzati, il gruppo verrà gestito in automatico e anche il sample clear. Siamo pronti per familiarizzare con l'interfaccia grafica la GUI e per imparare il sistema di composizione d'utilizzo di machine. Dovremmo attendere un pochino prima di mettere le mani sul controller. Il primo pulsante in alto ci mostra oltre ai credit e quindi tutte le persone che collaborano alla creazione delle librerie di machine la versione che stiamo utilizzando in questo momento e la modalità se è a 64 bit o a 32. Il secondo pulsante come abbiamo visto fa accedere ai menu relativi alle preferenze e alla visione in generale dell'arranger. Con la lente di ingrandimento possiamo chiudere il browser mentre con la sezione mixer possiamo accedere appunto al mixer che abbiamo anche visto prima sul controller. Quindi poter lavorare in maniera sincronizzata come vediamo con il joystick che troviamo qui. La library quindi tutta la sezione che fa riferimento ai progetti ai samples è selezionabile con vari sistemi. Il primo è quello relativo ai progetti. Possiamo scegliere tra le librerie presenti all'interno di machine quindi quella di default oppure quelle che sono state acquistate separatamente nel tempo come ad esempio platinum bounce o grey forge. Il secondo pulsante fa riferimento invece ai gruppi. Ricordiamoci che ogni scena può avere più gruppi ed ogni gruppo può avere fino a 16 samples all'interno quindi suoni non soltanto di batteria ma anche di strumenti. La sezione a fianco fa riferimento ai suoni singoli quindi qui possiamo scegliere il tipo di suono da abbinare alla traccia che abbiamo selezionato mentre nella sezione instrument troviamo gli instrument che fanno parte della libreria quindi non soltanto quelli di machine ma anche quelli che ad esempio in questo caso ho caricato da complete ultimate. In aggiunta possiamo vedere anche le librerie esterne che fanno riferimento a contact come quelle di speedfire. Pure scendendo in basso possiamo vedere i suoni e gli strumenti che fanno parte di reactor. In questo caso possiamo vedere anche piano tech di modart che già funziona in modalità nks. Nella sezione effetti troviamo invece tutti i plugin che possono essere utilizzati all'interno delle nostre tracce quindi ad esempio quelli di machine, quelli di reactor o ad esempio i riverberi di reflector. Infine accediamo alla sezione samples. Questa è comoda per poter caricare direttamente i singoli suoni. Ad esempio cerchiamo un kick e possiamo già vedere tutti i kick presenti all'interno delle librerie e caricarli direttamente nella traccia. Sotto abbiamo il volume di ascolto del sample quindi una volta scelto può essere poi associato al pattern e possiamo iniziare a scrivere all'interno del pattern. Qui in fondo troviamo la sezione users dove poter registrare, catalogare i nostri samples o i nostri progetti e quindi accedervi più velocemente di quanto potremmo fare navigandole nella libreria. Nella sezione files troviamo la possibilità di accedere direttamente agli hard disk presenti nel nostro computer. Qui in alto troviamo la transport bar, la possibilità di sistemare il metronomo con i vari settaggi che vedremo più avanti, la connessione al machine e la connessione al complete S49 che in questo momento è collegato. Il volume generale, lo stress della CPU, la possibilità di accendere o spegnere l'applicativo. Qui al centro troviamo l'arranger vero e proprio. Andiamo a caricare ad esempio un progetto e troveremo già il pattern selezionato. Cliccando sul pattern possiamo accedere al disegno di quello che fa in questo momento il sax o la batteria elettronica, quindi il pattern della batteria elettronica. I pattern possono essere poi appunto copiati all'interno dell'arrangiamento. Più o meno lo stesso principio che attueremo all'interno della DO. Nella sezione sottostante troviamo i parametri che fanno riferimento al sound, al gruppo e al master generale. Siamo giunti al termine della prima lezione sul machine MK3. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a presto! Ciao a presto!